Parla tifoso dell'Azzurra! Se non ti sei ancora aggiornato, prepara il cuore perché le novità sono calde e fresche di forno. Oggi parliamo del nuovo comandante che sta arrivando per plasmare il destino del nostro amato Napoli. Ma prima di iniziare, non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nulla della nostra squadra del cuore. Ora, senza ulteriori indugi, tuffiamoci in questo mare di novità. Walter Mazzarri, grazie per i momenti passati insieme, ma si sa, il calcio è dinamico e i cambiamenti sono inevitabili. La cattedra sarà ora occupata niente meno che da Francesco Calzona. Il nuovo comandante è sbarcato nella città azzurra in tutta fretta, senza nemmeno disfare le valigie, perché i lavori iniziano subito. Il primo giorno di Calzona sarà intenso. Incontro con De Laurentiis, incontro con la squadra e, ovviamente, il primo allenamento. E non possiamo dimenticare il momento più atteso, la presentazione ufficiale in sala stampa. Sarà uno spettacolo di emozioni e non vorrai perderti nessun dettaglio. Hai pensato? Il nuovo allenatore ha appena messo piede in città e deve già prepararsi al debutto europeo. L'attesa è altissima e i tifosi azzurri hanno fame di grandi momenti. Allora ragazzi, cosa ne pensate di questa nuova era che sta iniziando? Commenta qui sotto, condividi questa notizia con tutti e, ovviamente, lascia un like per dare il benvenuto a Calzona. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti qui sul canale. Napoli sempre nel tuo cuore. Forza Napoli sempre!